Batman! Perché scappa? Perché dobbiamo dargli la caccia. Avanti su, entriamo! Via, via, muoversi! Ma non ha fatto niente. Perché Batman è l'eroe che Gotham merita, ma non quello di cui ha bisogno adesso. E quindi gli daremo la caccia. Perché lui può sopportarlo. Perché lui non è un eroe. È un guardiano silenzioso che vigila su Gotham. Un cavaliere oscuro.